ci sono tanti modi per personalizzare una bicicletta uno di quelli che mi piace di più sicuramente è cambiare la gabbietta del cambio posteriore fast right off è veramente un'ampia gamba con tanti colori tra l'altro sono anche i primi unici aver fatto la gabbietta per cambio e car con la 13 velocità gravel loro particolarità è che hanno un rivestimento della dentatura delle due due pignoni presenti nella gabbietta estremamente duro che sembra quasi come quello delle forcelle da monta ma tipo il kashima coating che permette di ridurre l'attrito quindi perdere meno potenza lo stesso tempo anche ridurre l'usura dei componenti quindi un'ottima soluzione tutto fatto in alluminio cnc abbiamo parlato qualche giorno fa dell'uscita del nuovo wow kicker move può sembrare un normalissimo kicker in realtà in questo caso si può sbloccare e può andare avanti e indietro tutto il sistema di rullaggio quindi praticamente la trasmissione rimane diretta il rullo si muove insieme alla bicicletta su una culla che ha una forma di questo tipo che permette proprio di accomodarsi al centro e nei momenti in cui si cambia l'intensità della pedalata si vuole fare uno sprint magari sui pedali la bicicletta tende ad andare indietro in questo caso il rullo ammortizza questo movimento donando una sensazione molto più di realtà molto più stradale vision è partner nel team jumbo vism e fornisce manubri da cronometro ai corridori che hanno vinto tutti questi grand tour quest'anno in particolare questo modello viene fatto secondo le specifiche dei corridori personalizzato con stampa in 3d quindi un lavoro veramente di alto livello un costo molto alto ma che permette ovviamente di raggiungere livelli aerodinamici inarrivabili con qualsiasi altra tecnologia esiste anche una versione triathlon con la possibilità di mettere una borraccia anteriore per poter bere senza togliere le mani dal manubrio e anche un supporto per ciclo computer qui davanti due novità gravel in casa fsa un pro wing agx che è un manubrio che ha una doppia utilità ha ovviamente il flare che è molto richiesto nel gravel ma anche questo supporto anteriore che può essere usato in due modi o per ancorare meglio la borsa anteriore si può veramente bloccare in modo efficace oppure si può usare come un'estensione per far riposare le mani appoggiando praticamente gli avambracci tenendo soltanto la parte anteriore delle mani altra cosa interessante nuovo attacco manubrio vas che al suo interno nell'astomero che va proprio posizionarsi tra l'attacco manubrio e il manubrio viene fornito con tre diverse densità in modo da poter scegliere la resistenza al movimento ovviamente anche la resistenza vibrazioni più adatte le proprie esigenze appena stata lanciata la ruota fulcrum wind sorella minore della fulcrum speed lanciata a maggio si caratterizza da un profilo cerchio da 42 canale interno da 23 ha ovviamente la caratteristica come la speed del cerchio chiuso quindi non ha bisogno di un tape da mettere come proprio il cerchio costruito senza fori più resistenza meno probabilità di forare sicuramente meno problemi con un tempo che potrebbe perdere pressione profilazione hook quindi non è un nucleus è un hook fatto a regola d'arte in carbone in questo caso rivestito con una colorazione opaca qui invece un lucido trasparente differenze principali ovviamente all'interiore di mozzo che completamente diverso qui a coni e calotte ceramiche con raggi piatti mentre qui abbiamo un mozzo con cuscinetti sigillati e raggi tondi peso di queste ruote 1510 grammi e 1410 grammi la coppia possono essere montate ovviamente con gomme da fuoristrada ma anche con gomme da strada sono una volta pensata per l'endurance road e leggero frodo la sella cadex amp l'avete magari già vista in alcune delle probai che avevamo portato sul canale magari quella di michael meteo se in realtà è disponibile l'acquisto da solo due settimane un modello nuovo di cadex molto leggera telaio tutto in carbonio anche nella parte dello scafo non solo nella parte del re quindi un bel progetto molto resistente che non andrà può sfondarsi nel tempo come succede con le selle più economiche in plastica è stato lanciato anche un nuovo attacco manubrio in questo caso rispetto ai modelli jant è pieno quindi si vuole cambiare lunghezza attacco bisognerà per forza tagliare la linea freni nel caso di passaggio cavi integrato a due particolarità interessanti la prima è che ha soltanto due viti che chiudono la parte anteriore del manubrio qui invece c'è una specie di blocco che su cui si inserisce la parte anteriore che blocca la piega la seconda cosa interessante qui di solito c'è una vite che mette in pressione tutta la serie sterzo in questo caso invece c'è un coperchietto che nasconde la vite posta in questo caso sotto che andrà poi a chiudere tutta la serie sterzo quindi una cosa molto elegante e anche molto leggera e bella da vedere l'agrificio santino ha lanciato una nuova maglia che si chiama pelle ha tre tasche al posteriore termosaldata ma la cosa curiosa è davanti non ha la cerniera è talmente fresca che si utilizza senza intimo si mette direttamente sopra le bretelle e assicura un fit veramente aderente soprattutto perché è un fisico che lo può portare ovviamente dicevo tre tasche se ne possono aggiungere altre quattro con il suo pantaloncino gravel che ha due tasche laterale due tasche posteriore aggiuntive soprattutto poi si può mettere questo vest che praticamente nonostante colore scuro serve per aumentare la visibilità perché perché tutte le cucituri sono rifrangenti anche questi disegni questa trama interna riflette luce delle macchine quindi ci rende molto più visibili ed è veramente compattabile si può tenere in tasca tranquillamente tubolare copertoncino copertoncino con camera in tpu tubeless e infine tubeless con inserti speciali che sostituiscono una parte dell'aria con una schiuma che permette di continuare a pedalare anche in caso di foratura sono molto conosciuti quelli in settore fuoristrada però sono nati anche per il gravel e ancora più piccoli per la strada con questa forma esagonale vengono utilizzate soprattutto nelle classiche del nord dove c'è il pavè dove veramente è importante riuscire ad uscire di un settore di pavè prima di poter cambiare la ruota Pirelli lancia l'evoluzione della sua camera d'aria speciale P0 Smart Tube che appunto si chiama Smart Tube Evo è una camera d'aria speciale che permette di abbassare di un watt la resistenza al rotolamento quindi intorno al 5% a velocità gara insomma è una camera d'aria pensata proprio per le corse perché ha una tolleranza che va da 25 a 28 mm come sezione del copertoncino e pesa 40 grammi con versione valvola adottante 35 grammi con versione valvola da 40 svat club ha un'idea molto chiara di agonismo per loro si usa soltanto il body le tasche spariscono per lasciare posto al numero gara così si evitano anche le spille tanto i carbone si prendono solo dalle borracce e quando ci si veste la mattina bisogna mettersi davanti allo specchio e cercare di assumere il più possibile a VDP se volete portare con voi la vostra bici in aereo per portarla in vacanza o cambiare luogo di allenamento è indispensabile una buona borsa da viaggio specifica per le biciclette esistono rigide come in questo caso qui addirittura viene mostrata con una frontale trasparente per vedere come viene assemblata la sua bici all'interno la borsa rigida ha il vantaggio ovviamente di proteggere bene ciò che contiene però lo spazio è un pochino presidicato bisogna veramente incastrare tutto alla perfezione l'alternativa è una borsa flessibile come questa che però ha un telaio rigido in metallo su cui viene fissata la bicicletta viene poi chiusa con questa copertura morbida però che viene protetta a sua volta dalle ruote che fungono un pochino da scudo al cui interno si possono mettere tante altre cose quindi sacca portatrezzi piccole borse il casco le scarpe una pompa quindi da un pochino più di spazio a fronte di un pochino meno di sicurezza a livello di tenuta dai urti anche se comunque viene protetta molto bene che questo caso